Dopo la lunga pausa anticiclonica e temperature al di sopra della media stagionale, nel weekend torna il freddo in Puglia. La causa è da attribuire ad una massa di aria gelida artica che investirà l'Europa orientale, sfruttando un possente blocco delle miti correnti atlantiche. L'ondata di gelo colpirà soprattutto i Balcani, la Grecia e la Turchia, mentre il Sud Italia, Puglia compresa, verrà interessato solo marginalmente. Ciò determina comunque un sensibile calo termico, forti venti di tramontana e un tempo più instabile con piogge sparse e qualche nevicata in collina. Le temperature sino alla giornata di martedì saranno prettamente invernali, con le minime che potranno scendere anche di 2 gradi sotto lo zero, soprattutto durante le ore notturne, mentre le massime non supereranno i 7-8 gradi. Nelle zone più interne in collina potrebbero esserci precipitazioni a carattere nevoso, ma comunque poco abbondanti. Da mercoledì la situazione dovrebbe migliorare con un lieve rialzo delle temperature, pur restando in un clima tipicamente invernale.